Nel quattro di R3 il libro di Franco Mariani verrà presentato a ottobre alle 18 presso la biblioteca Il Bandino dove sarà presente ovviamente il presidente della commissione cultura e scuola, il presente Francesco De Pinocenti, Franco Mariani sarò presente io e come ospite anche Roma Milani, il presidente del consiglio credo sia particolarmente bello riscoprire il valore culturale, storico e civile del buon palone che è il nostro segno di appartenenza e quindi questa deve essere una spinta per la costruzione di una comunità e di una città che sia solidale e accogliente per tutti e che faccia il bene di tutti è un'occasione appunto per unire i vari quartieri al cuore centrale appunto della città e quindi un modo anche per riscoprire da un lato storico il nostro simbolo la nostra edilizia